buongiorno e benvenuti in questo video vlogmas e comincio pure a fare questi vlogmas non ho fatti mai perché comunque ho parto il canale a novembre quindi non ho fatti mai video vlogmas e quindi non sapevo cos'erane e quindi niente l'ho cominciato adesso oggi niente domenica sto a casa del ragazzo mio ecco c'è william niente oggi donna a comprare un sacco di robe per casa mia donna a comprare i capelli d'angelo per metterlo un telalbero delle lucette per metterlo nel presepe devo comprare delle tazzine per il caffè che non abbiamo più perché se viene qualcuno da un caffè nel bicchiere non sta bene poi cos'era mamma l'altra roba i capelli d'angelo le tazzine del caffè le luci del presepe oddio mi sfugge le decorazioni no oddio cos'era l'altra roba vabbè non mi ricordo un po comunque chiama mamma e me lo faccio di e poi niente poi dopo niente mi devo comprare un altro giubbetto come vi stavo dicendo che adesso me lo faccio prendere da roberto poi dopo io ho attratto con le altre ragazze per fare unghie dopo gli ridò i soldi e quindi niente c'ho mamma e testa da presumo moment boh e niente adesso dopo tre po prezziamo che ore 11.53 verso 1.15 così più o meno mangiamo dopo niente dopo dopo vado a fare questo video che vedete con un ragazzo mio se se la sente se non ci sarà qualche altro in top o qualcosa se se la sente facciamo questo video se non faremo la prossima volta il video challenge che vi ho detto ragazzo contro ragazzo e se non niente e va bene dai comunque ci ragioniamo dopo nel nostro blog mass e niente che stavo cominciando a toccare vedete qui tutta la roba e adesso ho messo già la crema il fondo correttore adesso metto fondotinta e niente adesso mi trucco e poi si faccio questa challenge con il mio ragazzo e dopo niente riprendo con vlog mass quando usciamo e quindi niente a tra poco ciao ho finito adesso di truccarmi ho fatto questo trucco qua e su un qua è un po di nero pare blu ma non è un po di nero e qua il blu ho messo un ombretto un po di eyeliner mascara sopracciglia e il resto come sempre blush vedete qua e niente rossi tutto rosa chiaro e niente questo è il trucco finito spero che vi piace non ti manca del trucco se vi piace o no e niente adesso chiamo il ragazzo mio da un attimo una pettinata perché ho i capelli che è un casino noi cominciamo subito a fare questa challenge e quindi niente noi ci vediamo dopo quando abbiamo finito a fare la challenge penso quando staremo in macchina e a dopo ciao ah è una cosa nella challenge che poi caricherò domani penso non lo so cioè domingo domani che questo video vedrete lunedì penso comunque va bene tanto prima vedrete il vlog mass e poi dopo vedrete la challenge quindi della challenge mi avrete detto con lo stesso trucco con la stessa maglietta perché comunque lo faccio adesso mentre sto facendo vlog mass quindi per questo mi vedrete lo stesso vestita nello stesso modo e niente ci vediamo più tardi allora ciao ciao allora la challenge l'abbiamo fatta così però dai vabbè non fatto quello che potremmo potuto fa questa challenge poi dopo lo vedrete quello che è e niente adesso siamo usciti che sono le cinese comprare queste quattro cose per casa e poi niente vabbè comunque tanto l'altro cinese si può andare a vedere anche più o meno quanto viene nemmeno siamo lo brio e no niente che ora da vedere questo giubbietto che avevo detto intanto l'abbiamo a vedere per vedere quanto viene adesso vedo un attimo va bene adesso vi rilascio perché tanto siamo arrivati e niente non la compresse così ne basta niente di niente di che insomma no fa sti giretti qua dai ci vediamo dopo allora ciao come sta l'olio l'olio di oggi eccoci qua allora Roberto adesso sta fa benzina vedete abbiamo il culo di Roberto allora abbiamo comprato queste qui che ho prese due queste 90 centesime costate che sono i capelli d'angelo questi è per casa che Maria mi ha detto poi delle lucette per metterle delle prese quest'anno l'avevamo fatto piccolino che è solo bianche ma così proprio per metterle delle lucette queste costate 4,50 euro poi ho più tre mollette di queste qui tre pacchi perché ogni volta noi ce le maniamo questo c'è parte non me le piacare mocida della roba bella ho preso questo insomma ve lo faccio vedere le tazzine per il caffè ma guardate se è carina è bello bello tanto che è queste guardate se è belle guardate se è carina c'è scritto milan c'è la scarpa con la donna può penso che lo vedrete sì è tanto tanto carina veramente carinissime perché non c'erano le tassette per caso scusa 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 non stavo a fare il video stavo a vedere cosa avevo preso e è arrivato ecco fatto to mamma rimetti dietro to tieni forti e niente questa è la roba che ho preso per casa è così niente il giubbetto è lasciato perde perché quelli che dico io 75 euro costava era bello un po' perché lunghi comodi poi c'erano il pelo grosso ovviamente finto perché se avevo rompia bianco poi ce n'era un altro tipo di giubbotto e sempre col colore verdino militare tipo roba del genere però col pelo rosa ma costava 55 euro costane troppo ho visto campottino 38 euro ma adesso non ho i soldi quindi non posso prendere mettere al culo un bel po' non lo devo provare che dopo lo voglio porca troia vabbè pazienza è andata così e quindi niente adesso niente penso che 6 e 4 penso che andiamo verso casa penso penso che ci fermiamo da altre parti non lo so poi dopo stasera ci prendiamo un bel kebab io e roberto e william te prenderemo la pizza te va bene e william prenderemo 2-3 pezzetti di pizza cusci e poi niente dopo roberto mi la porta a casa e niente e niente ci vediamo dopo ciao la giornata è finita ho mangiato ho mangiato il kebab a mio figlio ho preso pezzi di pizza così posso sto fumare la sigaretta ovviamente e niente ancora so truccata a vecchio reazione le 7 e 40 deve averci l'8 e mezza più o meno 8 e un quarto 8 e mezza più o meno roberto riporta giù casa dopo mi strucco tutto disfo la valigia e tutto puoi fare anche la cartera per il mio fiore per domani a scuola e poi niente poi niente poi mi metto a dormire quindi il vlog lo finisco qui dopo a casa non ho da fare tra lo struccame se sentite mi sono stanca morta tra lo struccame se stiamo a tutto mettiamo il pigiama dove faccio il cane eccetera eccetera finisco adesso e niente dopo io spero che la challenge vi piace che lo abbiamo fatto speriamo bene almeno per farvi anche una roba un po' divertente per farvi fuori un sorriso insomma ecco così niente dopo domani lunedì viene una ragazza domani pomeriggio verso 5 e mezza 6 che deve fare un semi permanente poi penso che o martedì o mercoledì insomma mi deve far sapere questa altra ragazza che doveva venire la scorsa settimana però non è venuta perché dovuta andare a fare un piercing non so dove che dopo questo qui questo piercers non c'era più non non c'era più posto dopo non c'era più posto per fino a dopo natale insomma fino a natale dopo natale quello che è e quindi è andata là in un fugo faccio a casa quindi alla fine e niente dopo deve venire in questa fa le unghie pure deve fare costruzione invece mi diviene cosa fa se mi premanente con l'altra non lo so ecco ve lo ho detto non lo so dopo io la sento lunedì e sento se vuole venire martedì tanto io altri ragazzi li ho fatti stessa settimana poi alcuni di voi l'hanno visto le foto su instagram o su facebook e quindi niente e niente ragazzi spero che questo vlog mass vi sia piaciuto se è stato così mettete il pollice in su iscrivetevi al canale per non perdere i nuovi video e vi do ora buonanotte un bacio e al prossimo ciao ciao